E' partito dal Piemonte il lancio della nuova piattaforma di notizie regionali, nazionali e internazionali dell'Ansa, disponibile gratuitamente per tablet. Al convegno di presentazione con fine innovazione in Piemonte per guardare al futuro, mercoledì 20 giugno, presso la sala conferenze del Museo Regionale di Scienze Naturale di Torino, sono intervenuti anche il direttore dell'Ansa Luigi Contu e il presidente del Consiglio Regionale Valerio Cattaneo. L'Ansa è l'unica agenzia che ha un'articolazione territoriale così capillare in tutta Italia e in tutte le regioni italiane ed è anche l'unica che può portare una notizia dal territorio all'Italia e al mondo. E quindi ha deciso di rafforzare la sua presenza nel territorio, partendo proprio dal Piemonte per lanciare questo nuovo prodotto, che è un notiziario multimediale che informa in tempo reale cittadini, istituzioni, partiti, società di quello che accade nella regione. Ed è anche la base di un'informazione corretta, costante, come è sempre quella dell'Ansa.